Dal 1929 la passione di un'impresa familiare, da piccolo laboratorio ortopedico a riferimento per la salute del nord-est d'Italia, con profonde radici nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Una squadra di sette tecnici e specialisti, con esperienza e sinergie per creare ausili e soluzioni su misura. Una moderna organizzazione manageriale al servizio del mondo sanitario, presente in modo capillare nel territorio del Friuli Venezia Giulia, con un esclusivo servizio di assistenza post vendita per la personalizzazione degli ausili. In collaborazione con tutti gli ospedali e le ASS del Friuli Venezia Giulia, e una rete di centinaia di professionisti della salute. La competenza e la sensibilità di personale qualificato, capace di cogliere e soddisfare le tue esigenze di benessere e di comfort personalizzato. 8 negozi e 7 recapiti in Friuli Venezia Giulia, per un'offerta unica di salute e benessere. 8.000 articoli in 5 mondi di proposte. Una nuova sede per nuovi servizi specializzati. Un laboratorio di fisioterapia. Un laboratorio di varopodometria. Una sala riunioni a disposizione dei clienti. Uno showroom con proposte alla vanguardia di domotica e tecnologia assistiva. Idee al passo con il futuro, per la tua vita al meglio. Porzio, dal 1929. La tua vita al meglio.